Buongiorno, sono fortunato che c'è un pochettino lavoro, compagnia mia, cose digitale, cose grafica e pure cose macchine, cose robot. Sono da un gruppo in italiano che si chiama Life Business. Lavorano a Roma e lavorano pure a Londra e lavorano per tutto il mondo, in America. Sono contento, c'è pure una propria compagnia che c'è, e sono leader, c'è leadership bene, cose legate a cosa in Pakistan. In Pakistan sono una gente buona che italiana, pure indiana, pure. Cos'è una opportunità a essere svetto, a essere fortunato che ti invitano ad accettare cose. Cos'è una cosa in mercenaria? Sono invitato da certe luoghi, cose per vivere, gente, conoscire, tanti amici, fratelli, confratelli. Sono contento di queste cose ancora a tirare avanti. Sono così, a stare sempre a due, a due piedi avanti. E sempre a essere sospita, c'è una cosa, c'è una cosa che viene buona per l'umanità e pure per tanti amici, per famiglie. Queste sono cose che io sono interessato, e sono fortunato che io sono indra da certe cose, pure in Palermo, a Trapane, a Messina, a Catania, e a tanta poste, questa masoneria, pure in Roma, e in Italia, in Firenze, e pure a Torino. Yeah, so, andate davanti, questa cosa. Ho poi natura da digital, tecnologia, elettronica, ci sono tante cose, macchine, che tu, e poi, cose come c'è, per vivere per lavoro, e pure, c'è progetti, tanti progetti, 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 disegni, progetti, ingegneria, tante cose. Ciao, guys, ciao, ci vediamo. E se sei interessato, c'è un buono network, c'è in Australia, a Sydney, a Melbourne, e pure a Brisbane, e pure a Perth, e facciamo tante cose con i cittadini italiani, e con cosa, con la Camera Italiana, e siamo, you know, ciao, you know, certe cose, è mettuto a tante parte. Ciao, guys, all right? Mi roma una telefonata, io sogno sempre libero, per cose di WhatsApp, e, you know, tu mi puoi telefonare via Telegram, elettronica. Grazie a tante, ciao.